Articolo 72,4 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale proclamato eletto sindaco il candidato alla pretetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accerta che il candidato signor Antonio Poziello ha riportato a tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi numero 14.735. Presidente dell'Università Centrale alle ore 18.30 del giorno 18.06.15 programma eletto alla carica di sindaco del comune di Giuliano in Campania il signor Antonio Pozzini. Grazie. Applausi. 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 ...un anno, ci è fatto tante volte e ha guardato dall'altro lato nel 2001 e dal 2001 sono stato saluto in questi banchi a sinistra da consigliere comunale. Oggi è emozionante entrarci entrarci ed essere proclamato sì, dopo una campagna elettorale bellissima ed emozionante che mi ha fatto sentire tutto l'affetto e l'avvicinanza di centinaia e di migliaia di cittadini in questa città e anche il tipo da stadio con cui mi avete accolto questa sera è veramente emozionante credo che questo affetto, questo tipo da stadio meriti grande rispetto e grande attenzione e meriti da parte di un impegno, quello di restituirmi tra cinque anni una città migliore una città migliore ai miei, ai vostri figli e a tutti quanti noi ed è il punto che mi ha detto prima di insediarmi, già ieri, ho ripetuto di dover per invitare i cittadini di questa città, i genitori come me a tenere d'occhio i figli perché credo che in civiltà cui abbiamo assistito negli ultimi mesi con motorini che sfrecciano da ogni parte è solo una piccola cosa ma è una delle piccole cose da cominciare a cambiare da domani i vigili saranno molto molto attenti a quello che succede quindi da domani ragazzi quei caschi e non si camminano più si marcella grazie e andiamo a fare il passaggio dei consigli grazie ancora grazie 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 grazie